Ho visto una Samp con tanto orgoglio, ce l'ha messa tutta, però non è bastato. La Roma con il minimo sforzo è riuscita a portare a casa un risultato per lei importante. Ho visto una Samp diversa come approccio, però deve fare qualche cosa in più. Deve rischiare anche da parte dei singoli giocatori perché sennò si diventa troppo prevedibili. In due partite abbiamo calciato pochissimo in porta e per vincere bisogna fare di più sicuramente. Però come approccio, come determinazione mi è piaciuta. Non ha mollato fino alla fine, è stata all'altezza della Roma, anche se poi dopo la Roma ha avuto anche delle occasioni per raddoppiare. È stato grande Odero che ha limitato il risultato. Per quanto riguarda il fatto di Ferrero, penso che sia stata una scena brutta. brutta perché qui si vede proprio in non voler bene a una società, a una squadra e a una città. E questo sicuramente porterà danni in settimana perché ne parleranno. Questo poi potrà portare poco alla concentrazione di una partita che è ancora più importante di quello che sta succedendo fuori dal campo. Mi auguro che Stankovic riesca a tenere il gruppo compatto. Grazie a tutti.